Siamo partiti, partiti? Partitissimi, partitissimi e felici e abbiamo, come dire, raggiunto un capice di soddisfazione entrambi. Allora diciamo perché, Carmelo, vediamo quanto tempo abbiamo. Allora, oggi è la giornata mondiale dell'orgasmo. Ho pensato con Carmelo di dirlo in modo molto raffinato. Se volete veramente far raggiungere i vostri capelli il culmine del godimento, del piacere, venite da Carmelo perché... Sì, ma questa storia della giornata mondiale dell'orgasmo, io voglio un poco dire una cosa. Non dobbiamo pensare solente all'orgasmo. Esatto! Orgasmi dell'anima, sono orgasmi animici. Finalmente, finalmente. Orgasmo dei capelli, orgasmo della nostra amicizia, orgasmo proprio dell'amore. Rieccoci qui. Allora, abbiamo parlato di piacere, di godimento della giornata mondiale di quest'oggi e abbiamo detto ma perché riferirci solamente alla sfera sessuale quando il piacere deve essere un piacere prolungato per 24 ore, 24 su 24, deve prendere tutta la vita. Ma deve essere un piacere di tutti i giorni. Esatto! Di tutti i giorni. Sì, c'era una pubblicità che diceva fare l'amore fa bene all'amore, fare le cose bene, quindi in questo caso la nostra professione fa bene a noi stessi, ai capelli e ai nostri clienti. Quindi oggi, grazie a questa fialetta magica di Selective Professional, ho realizzato questa capigliatura proprio. È stata salva fatta questa bellissima piega, però con minerali, rame, ferro, zinco, silicio, abbiamo dato proprio tono ai tuoi capelli. Allora ragazzi, bene, tutto questo per dirvi godiamoci la sta vita, che ne abbiamo una soltanto e facciamolo tutti i giorni, celebriamola. È la festa più bella che possiamo festeggiare perché non c'è nulla di garantito. Domani non sappiamo neppure dove saremo, cosa faremo, se ci saremo, tanto vale. Lorenzo in magnifico diceva in questo senso, chi vuole essere lieto sia del domani, non vè certezza. E quindi, ragazzi, godiamoci questi capelli. E io posso dire a tutti i colleghi del mondo, fate l'amore con i capelli oggi ancora di più, dato che la giornata dell'orgasmo, attraverso i capelli, riceviamo tanto, tanto piacere, e tanto amore. Ragazzi, Ondina ha scelto Carmelo, grazie Carmelo. Grazie mille. Ciao a tutti.